rincari luce e gas traballano i bilanci comunali alluvione anche squadre da pesaro a cercare l'ultima dispersa segnalazioni risolte si asfaltano strade malandate carer day a urbino anche i laureati capolavoro pesaro celebra don giussani nel centenario della sua nascita buonasera a tutti voi che state guardando rossini tv questo è il nostro telegiornale di oggi giovedì 27 ottobre che apriamo parlando del caro energia ieri ci siamo occupati delle gravi problematiche della provincia nel gestire le spese di riscaldamento delle scuole superiori oggi invece in questo nostro primo servizio andiamo ad analizzare quale sarà l'impatto che questi rincari avranno sui bilanci comunali di pesaro fano e urbino l'anomalo caldo di fine ottobre che sta posticipando l'accensione dei riscaldamenti pubblici non addolcisce la pillola di bollette che rischiano di far traballare i bilanci comunali o comunque di privarli di risorse spendibili su altri progetti mancano infatti due mesi alla fine del 2022 ma è già prevedibile l'ammontare del rialzo dei rincari dei consumi energetici il comune di pesaro nel 2021 ha infatti speso 2 milioni e 200 mila euro per l'illuminazione pubblica e altrettanti ne ha spesi per il consumo di gas la previsione di fine anno è che ne verranno spesi 3 milioni e mezzo per la luce e 3 milioni e 800 mila euro per il gas aumenti praticamente del 100 per cento idem ma fanno dove si stima un raddoppio da 800 mila euro a un milione 6 per la luce e da 500 a 900 mila euro per il gas rincari che invece ad urbino sono stati in settimana anche al centro del consiglio comunale che ha previsto una variazione di bilancio con quasi 400 mila euro destinati a colmare il gap del rincaro dei costi amministrazioni della provincia accomunate dunque da una trasversale preoccupazione che soltanto limitata all'anno corrente i cui rincari sono rattoppabili con accantonamenti e avanzi di bilancio che sono tutto sommato virtuosi la vera angoscia è piuttosto sul 2023 che rischia di avere un effetto sismico meno gestibile senza un'inversione di tendenza nazionale sulla gestione del caro energia proseguono da ben 43 giorni le ricerche della 56enne brunella q scomparsa dal 15 settembre nel fango dell'alluvione che ha costretto a piangere 12 vittime anche da pesaro sono partite due squadre di volontari di protezione civile che si sono unite alla folta task force di ricerche concentrandosi sull'area del nevola nel territorio di corinaldo da un mese e mezzo si cerca con sommozzatori vigili del fuoco e unità cinofile ma della donna non c'è ancora alcuna traccia ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni in questo caso ci occupiamo con piacere di problematiche che si sono risolte anche grazie alla vostra segnalazione ma anche al nostro intervento sul campo e parleremo però in questo servizio anche di quelle segnalazioni invece che continuano ad arrivare alla nostra redazione per alcune strade da ripristinare vediamo rossini tv quotidianamente accende le telecamere sulle segnalazioni di voi telespettatori che ci inviate al numero whatsapp dedicato 370 366 7210 rossini tv che ancora più contenta di accendere le proprie telecamere quando le segnalazioni sono risolte è il caso della zona soria dove avevamo segnalato un paio di settimane fa la situazione di diverse ammaloramenti stradali soprattutto legati ai lavori della fibra ottica che avevano procurato dei solchi importanti in questa zona in particolar modo in via gattoni dopo pochi giorni e dalla nostra segnalazione le buche sono state ricoperte dagli operatori del comune rendendo la strada più sicura e più fruibile e dunque interventi su strade ammalorate che si inseriscono nell'ampio piano asfalti di quest'autunno del comune di pesaro lo stesso sindaco matteo ricci attraverso un post nelle ultime ore ha ricordato i tanti interventi di questi giorni completati su via allegorizia strada montefeltro strada vallugola via pieve strada della leccia strada san giorgio via lago maggiore via cardinal massaia e il parcheggio di via basento a breve sono attesi altri lavori su altre strade dei quartieri cittadini e sono tante che chiedono anche a noi di rossini tv di essere inserite in questa agenda dei lavori è il caso ad esempio della zona monte granaro dove ad esempio in via vogado dove ci troviamo ancora c'è una situazione segnalata dai residenti di strada particolarmente ammalorata disse stata sia per quello che riguarda il tratto carrabile sia i parcheggi sia il percorso ciclo pedonale in questa strada che si inerpica in salita lo stesso dica siccome vi avevamo già segnalato in zona tombaccia tra via cesena via san marino e via pennabilli diversi diverse buche diversi avvallamenti che ancora aspettano di essere inseriti nell'agenda dei lavori e chissà che il piano asfalti non rispondi a questa richiesta dei residenti e allora l'invito è sempre quello di mandarci le vostre segnalazioni perché chiaramente ecco faremo il massimo per poter risolvere le problematiche che ci segnalate ed ora andiamo ad urbino perché si sta concludendo in questi giorni la settimana del carer day l'appuntamento che da 21 anni fa incontrare gli studenti universitari con il mondo del lavoro quella di oggi è stata una giornata ancora più speciale perché sono tornati nell'ateneo anche gli ex studenti che dopo la laurea ad urbino hanno saputo intraprendere carriere di spessore internazionale se il mondo dell'università e quello del lavoro viaggiano di pari passo il carer day organizzato da un urb è il più importante momento di incontro tra questi due ambiti si tratta di un evento arrivato alla ventunesima edizione che si articola in laboratorio di incontri con le imprese in cui gli studenti laureati e laureandi dell'ateneo possono mettere a fuoco i percorsi migliori conoscendo i progetti professionali che hanno in servo le aziende il carer day si svolge in due modalità alcune aziende partecipano solo in modalità virtuale dal 21 al 28 ottobre mentre altre sono state presenti quest'oggi a urbino al carer day in presenza presso la sala del trono di palazzo ducale per l'occasione questa mattina sono stati anche premiati i cosiddetti studenti capolavoro ovvero i laureati di uni urb di un certo numero di anni fa che sono stati riconosciuti dall'università di urbino come coloro che hanno realizzato una carriera di rilievo sono ben sei laureati capolavoro cecilia felici Enrico Grassi e Giuseppe Basile che hanno ritirato fisicamente la loro pergamena e Angelo Vannini Camilla Brivio e Lucia Casadei che si sono collegati da remoto a causa di impegni lavorativi si manda un messaggio ai giovani che le opportunità la possibilità di raggiungere posizioni molto importanti anche da un punto di vista professionale dipende anche dalla loro determinazione il nostro compito come Ateneo è quello di fornire agli studenti gli strumenti per muoversi e per capire come si sta come sta cambiando l'economia la società poi però sta loro con la determinazione devono avere determinazione se uno vuole raggiungere un obiettivo diciamo molto spesso lo si raggiunge e io penso che di nuovo l'elemento fondamentale sia quello della formazione Già da anni noi riteniamo che l'orientamento non riguardi solo l'ingresso nel mondo accademico ma riguardi anche soprattutto l'uscita e quindi il momento in cui i nostri giovani laureati vivono la fase più critica se vogliamo della loro vita perché escono da un percorso di studi in cui hanno maturato determinate esperienze e si affacciano verso un mondo che per loro è completamente nuovo completamente diverso e noi in questa fase vogliamo rappresentare quell'anello di congiunzione che permette di mettere in contatto laureate e laureati con il mondo delle imprese questo è l'obiettivo che ci siamo posti con eventi come il career day questo è anche il motivo per cui oramai da anni promuoviamo questa diciamo celebrazione dei laureati che secondo noi nel corso degli anni hanno dimostrato di saper mettere in pratica quanto hanno acquisito nel percorso di studi attraverso una carriera che noi riteniamo brillante e questo per noi è importante perché presentare ai nostri studenti alle nostre studentesse questi esempi possa essere per loro una sorta di stimolo a dare il meglio di sé e a non avere paura del futuro se volete approfondire ancora di più e vedere meglio quello che è stato il career day l'appuntamento è su Rossini tv con il nostro speciale che andrà in onda mercoledì 2 novembre alle ore 21 e 20 ed ora cambiamo argomento cento anni fa nasceva don luigi giussani una figura che pesaro celebrerà con una tre giorni di appuntamenti organizzati dal centro culturale città ideale dal titolo vivere intensamente il reale vivere intensamente il reale e questo il titolo del progetto che l'associazione pesarese centro culturale città ideale promuove per celebrare il centenario della nascita di don luigi giussani ripercorrendo e analizzando l'opera del teologo docente educatore e sacerdote fondatore del movimento di comunione e liberazione attraverso una tre giorni che si terrà fra il 4 e il 6 novembre fra teatro sperimentale hotel baia flaminia per approfondire questo tema abbiamo pensato di invitare delle personalità che sono veramente impegnate a vivere così intensamente reale una sfida che vogliamo porre a tutta la città e per primi ce ne siamo posti noi con queste persone invitandoli a delogare su un testo che è il testo fondativo di tutto il pensiero di giussani che è il senso religioso senso religioso ci tengo a sfatare subito che non è un tema che riguarda la religione ma per senso religioso don giussani intende quelle domande costitutive dell'uomo cioè di verità di felicità di bellezza e su questo abbiamo invitato i nostri relatori a confrontarsi e a dirci come per loro questo nella loro vita si esprime il progetto patrocinato dal comune di pesero e dall'ordine dei commercialisti ed esperti contabili di pesero urbino si declinerà in una tre giorni di incontri con professionisti e culture diverse che saranno accompagnati anche da esposizioni dedicate fra questi ospiti ne abbiamo intercettati quattro perché sono delle personalità che noi leggendo o vedendo quello che facevano ci sembravano impegnati e quindi interessati a dialogare su questo tema ci saranno Mario Cucinella che è un architetto e Franco Arminio scrittore paesologo come lui si definisce e Cadenas che è un fisico spagnolo vero appositamente dalla Spagna per dialogare con noi e poi abbiamo l'ultimo che è Julián Carron che è stato fino al successore di Giussani fino a un anno fa la guida della fraternità del movimento è di 23.400 euro l'ammontare dell'assegno raccolto dall'evento musicale di solidarietà organizzato dal comune di Fano dal titolo con il cuore nel fango la maratona di otto ore di concerti con 55 band che domenica si sono esibite alla rocca malatestiana ha portato a raccogliere un corposo incasso al botteghino che Fano ha consegnato agli amministratori di Cantiano, Cagli, Pergola, Serra Sant'Abbondio e Frontone per aiutarli a ripartire dalle ferite dell'alluvione. Sono iniziate ieri a Pesaro le riprese del nuovo lungometraggio girato da Joseph Nenci dal titolo ancora volano le farfalle si tratta di un film ispirato alla storia vera di Giorgia Righi 24enne residente a Gallo di Petriano affetta dalla atassia di Frederick una rara malattia di generazione del midollo spinale del cervelletto una storia che vuole esaltare i valori di straordinaria tenacia e ottimismo capaci di andare oltre le limitazioni della malattia. Il film girato tra Pesaro e Rimini vede nel cast gli attori Beatrice Mariani, Massimo Fradelloni, Giorgia Fiori, Chiara Sani e Giovanni Cacioppo. Le immagini invece che vi mostriamo ora si riferiscono al borgo di Monte Ciccardo dove sono partiti i lavori di restauro del monumento ai caduti situato alle porte del municipio. Il comune di Pesaro è intervenuto per restituire all'antico splendore una struttura malorata da anni di infiltrazioni. I lavori prevedono una riqualificazione del tetto e il restauro di stucchi, dipinti e lastre di marmo con i nomi dei caduti. Rush finale per la 75esima edizione del Festival GAD che questa sera alle 21 al Teatro Sperimentale vedrà andare in scena a A.A.A. Aspiranti Assassini proposto dalla Compagnia dell'Anello di Forlì per la regia di Francesco Lezza. Domani invece sempre alle ore 21 la Compagnia Teatrale Bresciana La Betulla porterà il gioco delle parti di Pirandello per la regia di Bruno Frusca. E concludiamo il nostro Tg ancora all'insegna del teatro, quello che sta per partire ad Urbino con la nuova stagione del Teatro Sanzio che propone sette grandi appuntamenti coordinati da Amat. Il Teatro Sanzio alza il sipario sulla sua stagione teatrale 2022-2023 promossa da Amat che accompagnerà la cultura urbinata da novembre fino a marzo con un programma variegato e coinvolgente composto da sette spettacoli in abbonamento che saranno inaugurati il 17 novembre da un omaggio alla leggenda di Fausto Coppi con Tempo in Fausto di Cesare Inzerillo. Programma che prosegue il 2 dicembre con la commedia tutta al femminile Figlie di Eva con Michela Andreozzi, Maria Grazia Cucinotta e Vittoria Belvedere per passare ad una commedia nera come Il delitto di Via dell'Orsina con Massimo D'Apporto e Antonello Fassari in scena dal 15 dicembre. Il 25 gennaio Il Marito Invisibile sarà invece la prima messa in scena innovativa di commedia in videocall con Marina Massironi e Maria Amelia Monti. E ancora un tuffo nell'atmosfera dantesca di Paradiso 33 con Elio Germano dal 28 febbraio mentre il 10 marzo arrivano due attori amatissimi come Lino Guanciale e Francesco Montanari con L'uomo più crudele del mondo. Il 30 marzo il rossignano barbiere di Siviglia diventa invece un balletto d'azione realizzato dalla coreografa Monica Casadei. Dunque sette spettacoli per 13 appuntamenti di una stagione che si allargerà anche alle proposte di andare per Fiabe, Teatro Oltre e la città in scena con la compagnia dialettale Urbinate. Un programma che ho visto con molto favore e molto compiacimento in cui sento di essere stato come dire suggestivo e quindi utile e che mi auguro ai cittadini di Urbino e per quelli che verranno rappresenti soprattutto la prima cioè Cesare Inzerillo che è una cosa comunque talmente singolare e straordinaria che non è soltanto per un teatro della città ma per un teatro d'Italia e quindi mi auguro che ci siano prenotazioni per i nostri spettacoli anche da fuori Urbino per il riconoscimento del valore e dell'impegno di questa programmazione così precisa, così amorosa e per cui ringrazio l'amico Santini. 13 appuntamenti dal 17 novembre al 30 marzo. Una novità che abbiamo deciso con il sindaco Gambini, una novità democratica, importante secondo me perché abbiamo deciso, visto che la prima stagione di ritorno dopo il covid e di offrire a tutti i cittadini di Urbino, naturalmente chi vorrà, una ripartenza anche dal punto di vista degli abbonamenti. Quindi non avremo prelazione di abbonamenti ma nuovi, tutti nuovi, dal 5 al 12 novembre appunto una riapertura del teatro che ci consente appunto di non condominalizzarlo troppo. Quindi si ripartirà il 5 novembre a teatro vuoto, a pianta vuota e quindi chiunque chi vorrà potrà fare questo percorso di abbonamento. Come avete visto i titoli sono belli, importanti e tenete conto appunto che gli abbonamenti partono addirittura da 61 euro per tutto il percorso delle sette proposte della prosa. Questa stagione teatrale deve ripartire, la città vuole ripartire, per fortuna abbiamo una città che è tornata viva, devo dire che affacciandoci dalla finestra abbiamo tantissimi ragazzi giovani che vivono la città e questo ci fa già ancora di più quell'ottimismo che ci serve. Grazie a tutti. Per tutti giovedì abbiamo una nuova puntata di Insieme a Canestro, gli ospiti di questa sera sono Valerio Mazzola, ala della Carpegna Prosciutto Basket e Michele Zavagnini che è il commentatore e opinionista. Chiaramente l'invito è quello di scriverci in diretta attraverso il numero whatsapp 370-366-7210 oppure commentando sotto la diretta che trovate sulla nostra pagina facebook. generazione Z, cioè la generazione degli adolescenti di oggi. Siamo andati a fare le riprese di questa puntata all'Istituto La Nuova Scuola di Pesaro. E poi sabato torna una nuova puntata di Gui Pesaro TV, ospite di questa puntata condotta come sempre dal nostro Antonio Astuti alle 13.30 sarà Luca Pandolfi, assessore alla Solidarietà. Grazie per averci seguito come sempre, adesso il meteo e chiaramente noi ci vediamo domani nella Rassegna Stampa.